E bentornati con la seconda parte del TG Mattino, questa volta interamente dedicata allo sport. Iniziamo subito con le pagine del Corriere dell'Umbria. Fere, ora c'è anche Viviani. Tre anni di contratto al centrocampista. Paghera e Proietti finiscono al Brescia. Capo Zucca la ricerca anche di una mezz'ala di qualità nel mirino Obi della Regina. Addio al prof Amerini, ex Rosso Verde. Lutto, prima della Proda Terni, aveva indossato la maglia della Narnese. Intanto Dionisi, che gioia essere qui, l'attaccante ex Ascoli, finalmente arrivata all'occasione della Ternana. Il Grifo ci riprova con Crisetig. Tentativo per il centrocampista ex Regina che però ha marcato nel torneo cadetto. In attacco previsti due arrivi con Giuliarielli che insiste per Simi, ma l'affare è complicato. Intanto in nazionale ci sono anche sei ex Grifoni convocati dall'Italia di Spalletti. Gubbio di Massimo torna ad Ancona e sogna i gol dell'ex. L'attaccante della scorsa stagione ha fermato 10 reti in 29 partite con i 12. Sabato di nuovo al Del Conero. Il giocatore abruzzese potrebbe essere impiegato da seconda punta o come uno dei due trequartisti per quanto riguarda la Serie C. In tante promozioni, il guardia ha batto in colpo davanti, ingangiato il bomber Coccia. Il Trestina ricomincia da un brutto ricordo. Domenica il campionato riparte da Ponsacco dove perse i play-out. Ma Ciampelli e Tascini dicono c'è energia positiva, sarà l'anno del riscatto. Intanto, altro che interregionale, i Gironei ha rischio controllo delle Toscane. Intanto, per quanto riguarda l'eccellenza, l'Angelana è pronta per il Lamaco. Torneo si affida ai più giovani. Fiducia a Bocci, Vitaloni, Sirici e Logelfo. Auto, Ravanelli. La liscia punta all'Europa, parliamo di equitazione. Costanza in sella Emirat Dubart va a caccia di un altro titolo continentale. La 23enne difenderà i colori azzurri e si confronterà con 76 binomi di 21 nazioni. Domani, nei Paesi Bassi, la Perugina del Fuxia Team cerca il bis dell'oro del 2019. Intanto, scalata a tricolore a Foligno, in bici a fianco dei Campioni. La città di Castello da Sogno e da Rone, per quanto riguarda il Canoa e Rugby. Ecco lo staff per l'attività regionale, cardinale confermato coordinatore. Umbria, sul tetto d'Italia, per quanto riguarda il Padel. La Gualdese, Matilde Minelli, Arena Perugia, vince lo Scudetto nel doppio Under 14. Secondo posto di Lucrezia Piernera della L'Oscar, SSD, ARL Clitunno, Bai Loretti. L'atleta, allenata da Fabricio Cattaneo, si è imposta a Guidone insieme alla Toscana Giraldi. Intanto, per quanto riguarda il tennis, inizio che dell'era Caragretti a Città di Castello, Picchi, Mariani e Mariangeli trionfano a Città di Castello. Super Grillo a Petra, l'ennesima impresa. Per quanto riguarda il podismo, il Paralimpico della Winner Foligno ha ultimato la maratona nel deserto. E passiamo alla nazione, ripartendo dal calcio e dal capologo Umbro con il Perugia, tre giorni di caccia al centro avanti. I club vuol convincere Simi a scendere in C. La società punta a chiudere per due attaccanti. In mediana, se escono Kuan e Santoro, oltre a Fossatice il derby per Crisetig. Intanto, il coordinamento contro il Carlo Abbonamenti è seduta ai test medici per il gruppo di Baldini. La primavera debutta con l'Ascoli, il derby di andata sarà in trasferta per quanto riguarda il settore giovanile. Mentre al Botteghino sfiorata quota 600 tessere. Proseguiamo con il calcio di Serie C, Gubbio d'Ancona senza Montevago e Brogni. Per quanto riguarda la promozione, il Campitello Sogni festeggia i 50 anni. In Serie B, Ternana è sempre mercato, ecco Viviani, via Proietti. Arriva il centrocampista del Brescia, seduto a Lombardi, anche Paghera. La squadra riprende oggi ad allenarsi in vista della gara di domenica a Como. L'atletico BMG, calcio di eccellenza a Raffica, 11 gol in tre gare. Mentre per quanto riguarda il volle di Serie B, Foligno piazza di Corpo Gallo. La media Umbra marciana invece conferma le sue colonne. Umbra Sport, per quanto riguarda il messaggero, Fere da Brescia, ecco Viviani. Sia Proietti che Paghera, convinti al trasferimento. E a Ternana arriva il centrocampista voluto da Lucarelli. Il mercato della Ternana potrebbe non essere finito. E di esse Stefano Capozucca ora dalla caccia agli svincolati. Mondiale di canottaggio, Matteo Tonelli vola e va in finale con il miglior tempo. Intanto per quanto riguarda la fossa olimpica, coppia del mondo di tiro al volo, la cascata si prende il bronzo. Bomber, Grifo e Simi, missioni difficili. Superati, ovviamente in questo caso si parla del calcio e nello specifico di Perugia. Superati gli ostacoli, c'è da convincere il gigante nigeriano. Ligeriano, Giulia Relici prova, per qua nel Santoro ancora tutto fermo, mentre punta anche Crisetig. Abbonamenti a quota 581, il coordinamento però protesta per i prezzi. Costanta la liscia, la salta di titolo europeo di Endurance. Gubbio, lezioni di luoto con Martin Enghi. E guardo FC avanti tutta per quanto riguarda il calcio dilettante. E con questa notizia noi ci fermiamo per quanto riguarda il TG Mattino. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo che tutte le news in tempo reale le potrete trovare nel nostro sito internet all'indirizzo trgmedia.it. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti informativi, vi ricordiamo quelli di stasera a partire dalle 19.30 con il TG dedicato all'Alto Chiascio e poi a seguire quello dell'Alto Tevere. Come detto, grazie per essere stati con noi e buona giornata con i nostri programmi.